Nato nel lontano 1975, il Centro di Sperimentazione Agraria di Leinburg a Vadena rappresenta un apprezzato punto di riferimento per il comparto agrario locale, ma vanta riconoscimenti e apprezzamenti anche su scala nazionale e internazionale grazie alle centinaia di progetti che ogni anno vengono curati. Dalla sua nascita il campo di azione si è notevolmente ampliato. Oltre alle coltivazioni e alle sperimentazioni agricole e agrarie, Leinburg conta una cantina, un allevamento ittico, 21 masi, ma anche riserve di caccia e giardini di Castel Trautmannstorf, a Merano oltre al Turiseum, di cui le ha necessità di una riorganizzazione e il relativo progetto elaborato dalla società di consulenza Roitim su incarico della provincia è stato presentato oggi dall'assessore competente Arnold Schuller a tutti i dipendenti. La Leinburg come centro di sperimentazione ha vissuto un grande cambiamento sin dal suo inizio. Il settore della ricerca si è sviluppato e poi si sono aggiunti nuovi o ulteriori settori come i giardini di Castel Trautmannstorf, la pescicoltura provinciale ed altri. E poi anche l'ambito dell'amministrazione è diventata molto più complessa. Per questo parliamo adesso di una riorganizzazione della Leinburg. La riorganizzazione della struttura Leinburg, si spera, comporterà notevoli vantaggi in termini di ottimizzazione delle risorse e rappresenta un passo in avanti soprattutto per quanto concerne l'attività di ricerca. Questo progetto prevede la trasformazione di due aziende, Leinburg e l'amministrazione del dominio forestale, in due nuove aziende dove la ricerca è separata e quindi può concentrarsi sui compiti di ricerca.